Il Licafè è nata moltissimi anni fa, 84 anni fa, con il sogno di offrire il miglior caffè al mondo. Quindi il fatto di essere presente all'estero per noi è una vocazione fin dall'inizio. Chiaramente oggi il fatturato di Licafè è fatto per il 64% all'estero. I mercati principali, al di là dell'Italia, sono gli Stati Uniti, l'Europa, compresa anche l'Europa del Sud e il Middle East, e poi da ultimo l'Asia, dove comunque stiamo crescendo con forti ritmi negli ultimi due o tre anni. SACCE ci ha aiutato nel passato a entrare in alcuni paesi con alcune operazioni di finanziamento, Brasilia.